Mani sapienti per tessere il futuro della filiera, la cultura della formazione nell'industria tessile italiana ed è questo il titolo della tavola rotonda che questa mattina nell'auditorium Centro Servizi Roffiera Milano ha dato il via all'edizione numero 34 di Milano Unica. L'edizione che vede come main partner e sponsor Banca Sella e Acqua Lauretana. E così tra Idea Viella, Moda in Fabrics, Moda in e Shirt Avenue sono 342 brand presenti in queste edizioni del Salone che insiste sul tema portante della sostenibilità, della difesa del patrimonio artigiano e culturale che rappresentano le filiere di questo settore. Dunque il coraggio della tessile unito a quello delle fiere è una scintilla buona che proprio questa mattina si chiama Milano Unica ed è il primo salone che osò scendere in campo nel settembre del 2020 perché si poteva e si doveva convivere con la pandemia. E così questa mattina ad aprire il tavolo di discussione nell'auditorium della fiera a Roff Alessandro Barberis Canonico, presidente di Milano Unica e con lui anche Francesco Ferraris, presidente del gruppo Giovani Imprenditori Sistema Moda Italia. Dunque oggi e domani si potranno conoscere le migliori proposte del tessile, degli accessori per abbigliamento, le collezioni primavera-estate 2023, insieme ai trend, alle novità e le suggestioni per la moda di alta gamma. Tra i tanti interventi anche il tema della formazione e dell'occupazione e del collegamento tra aziende e mondo del lavoro e scuola.